Sapete dove comprare il calendario in dialetto bolognese, il Sochma il 2022? Da Flor Danny! Ciao, buongiorno! Ciao, siamo da Flor Danny, un garden specializzato. Da noi potete trovare piante da interno, piante da esterno, decorazioni per la casa, il reparto natalizio e, ad esempio, il reparto profumazioni, dove trovate anche il calendario Sochma. È un calendario che viene scritto in dialetto bolognese. Ci sono le bazze, cioè delle promozioni. Flor Danny è il garden center di Granarolo dell'Emilia. Per scoprire la magia del Natale c'è un reparto interamente dedicato agli alberi, agli accessori e alle decorazioni del Natale. Oppure, se cercate regali o idee per la vostra casa, ci sono i reparti vastissimi di piante e fiori di ogni genere. Infine, nel reparto decor casa, tra le profumazioni proprio vicino alle casse, trovi il calendario in dialetto bolognese, il Sochma. Socia, stanno andando a ruba, manchi solo tu! Per venire a comprare il calendario Sochma ci trovate in via Salmi 2P a Granarolo.